salve a tutti crononauti e bentornati su spazi attorcigliati oggi parliamo di una cosa che in tutta franchezza un pochino mi preoccupa e se questo video funziona tra dieci minuti preoccuperà anche voi il decadimento del falso vuoto ovvero quello che potrebbe essere il miglior meccanismo per distruggere ogni cosa che conosciamo e amiamo ogni forma di struttura tutto 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 prima di entrare in questo terrificante oggetto della teoria quantistica dei campi permettetemi di ricordarvi di iscrivervi al canale iscrivervi al profilo instagram di spazi attorcigliati entrare nel gruppo telegram dove si parla tutti i giorni per ricevere rispettivamente rispettivamente notizie sui video chicche di approfondimento e chiacchiere accoglienza e amicizia da chi segue questo canale per parlare del decadimento di falso vuoto e qui rientriamo nella fisica bisogna fare un passo indietro e questo come sapete vale sempre dobbiamo ribadire un attimo come funzioni la fisica l'ho detto un milione di volte noi abbiamo uno spazio tempo dei campi che ci mettiamo sopra poi noi ci posizioniamo in un vuoto di questi campi in uno stato a energia minima ok stabile rispetto a piccole perturbazioni e lo perturbiamo quelle perturbazioni si chiamano particelle le nostre teorie ci dicono attraverso la grangiana ed equazioni del moto come queste particelle interagiscano per dare origine a tutta la fisica che osserviamo eccetera 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 in meccanica quantistica però stiamo lavorando con una teoria quantistica la teoria quantistica dei campi succedono delle cose molto strane una di queste è l'effetto tunnel l'effetto tunnel è un fenomeno prima ipotizzato teoricamente come esercizietto e poi osservato in laboratorio quindi una roba che oggi è assolutamente standard non stupisce più nessuno è proprio quella roba per cui in meccanica quantistica una particella può attraversare una parete di altezza e fogine se ci mettete un muro infinito non l'attraversa mai ma se ci mettete un muro di energia finito quindi una parete la particella può effettivamente saltare dall'altra parte questa è una di quelle cose che in meccanica quantistica più stuzzicano poi l'istinto fantascientifico quello magari un pochino troffaldino new age e tutta questa roba qui dicevo effetto tunnel la possibilità per una particella di saltare da una parte all'altra di una parete la ragione è presto detta in meccanica quantistica le particelle non sono particelle ma sono oggetti diffusi che chiamiamo funzioni d'onda le funzioni d'onda elevate al quadrato ci danno delle probabilità probabilità ad esempio di misurare la posizione di una particella in un certo punto e quindi se noi partiamo con una particella totalmente localizzata all'interno di una di una scatoletta quindi facciamo una misura su questa particella e sappiamo che è lì l'evoluzione temporale in meccanica quantistica quindi l'equazione di Schrödinger fa sì che la sua funzione d'onda e quindi la sua distribuzione nello spazio e la possibilità di trovarla in un punto o nell'altro si allarghi e si diffonda e perda con la precisione che aveva all'inizio e quindi la particella si diffonde se la diamo abbastanza tempo si diffonde in modo significativo anche fuori dalla scatola certo la presenza di un muro fa sì che faccia un po' più fatica a sgorgare fuori dalla scatola la funzione d'onda ma succede e quindi se noi ci diamo abbastanza tempo iniziamo ad avere una probabilità non trascurabile di fare una misura fuori dalla scatola e trovare la particella diciamo in soldoni che una certa quantità di particelle di un fascio sparate contro una parete attraversa quella parete questo è un effetto puramente quantistico un effetto che in meccanica classica non esiste in meccanica classica se io tiro una particella contro un muro una pallina contro un muro la pallina non passa in meccanica quantistica per le ragioni che vi ho detto prima quindi proprio perché noi descriviamo i sistemi fisici con funzioni d'onda le funzioni d'onda non sono precisamente localizzate e anche quando le localizziamo iniziano a spalmarsi con l'evoluzione temporale descritta dall'equazione di Schrödinger o dagli analoghi relativistici poi nella teoria quantistica dei campi e così via val tutto in qualunque teoria quantistica le palline possono dicevo attraversare le pareti questo si chiama effetto tunnel si parla anche di generali americani che scoperta sta roba hanno tentato tutta la vita sbattendo contro il muro ad attraversarlo ma questi poi sono dettagli chiaramente nel mondo macroscopico la probabilità si riduce drasticamente per tutti quegli effetti collettivi di decoerenza che fanno sì che le caratteristiche propriamente quantistiche dei fenomeni muoiano e non siano facilmente osservabili su scale macroscopiche ma questo è tutto un altro discorso di cui abbiamo parlato un milione di volte se volete approfondire la meccanica quantistica sul canale c'è una serie che si chiama meccanica quantistica fondamenti ed interpretazioni dedicata squisitamente a questa roba qua dicevi l'effetto tunnel a differenza della meccanica classica in meccanica quantistica un sistema può attraversare una barriera di potenziale come una parete, come una collina, ok? senza avere l'energia che sarebbe necessaria per attraversarla in meccanica classica è chiarissimo se una pallina è in fondo a una valle io per farle scavallare, farla passare oltre la valle la devo spingere abbastanza in alto e quindi le devo dare abbastanza energia eccitare la sufficienza da farle scavalcare la collina in meccanica quantistica può capitare che senza aver tutta quell'energia la pallina passi attraverso e che quindi sia molto più facile c'è una certa probabilità che attraversi la collina e questo vale anche in teoria quantistica dei campi quando noi parliamo di campi quantistici come dicevo prima e come ho detto in tanti altri video il video sulle particelle o il video sul meccanismo di Higgs noi ci mettiamo in un vuoto, in una posizione, in un minimo dell'energia del campo risolviamo le equazioni del moto troviamo diverse soluzioni, quindi diverse configurazioni dei campi nello spazio-tempo e ci mettiamo in un minimo in un minimo, quindi in una posizione stabile un punto in cui l'energia è in una valle ogni piccola perturbazione aumenta l'energia del campo queste piccole perturbazioni che aumentano l'energia del campo ci garantiscono di essere in un punto stabile perché poi il sistema tende a tornare proprio come una pallina in una valle al punto di partenza, quindi appunto stabilità e proprio queste piccole perturbazioni sono le particelle della teoria ora, nessuno esclude che il punto di minimo in cui ci siamo messi non sia un minimo globale della teoria ma solo un minimo locale e che quindi la nostra energia faccia una cosa così scenda, poi risalga, poi riscende, poi risalga e se siamo in questo minimo qua che è un minimo perché è più alto qui ed è più alto qui potrebbe esistere un minimo più giù un minimo energia minore classicamente, questo non ci interesserebbe in alcun modo perché passare dal minimo sopra al minimo sotto richiederebbe quantomeno l'energia necessaria a scavallare quella collinetta ma in teoria quantistica in teoria quantistica noi possiamo passare attraverso le barriere di potenziale senza aver tutta quell'energia quindi pigliamo l'universo e mettiamo i campi quantistici in un vuoto in uno stato di metastabile quindi quasi stabile stabile come minimo locale ma non globale esiste una certa probabilità che in un qualche punto in ogni istante che un qualche punto dello spazio ci sia un salto dal minimo in cui siamo al minimo più basso proprio per effetto tunnel che il nostro campo da questa configurazione puff, salti salto quantico appunto al minimo più giù anche se quel minimo era stabile classicamente questa roba non può succedere a meno di buttarci un sacco di energia che ti permette di superare la collinetta e scendere al minimo più giù ma a livello quantistico sì questo salto può avvenire anzi la probabilità è non nulla a volte anche abbastanza grande in certe configurazioni poi bisogna fare i conti quindi quello che può succedere in qualunque punto è che a un certo punto il nostro vuoto salti in un minimo più basso e a quel punto che succede? a quel punto il sistema cambia il sistema cambia e va al minimo più giù è libera dell'energia questa energia è sufficiente a triggerare questo salto anche intorno 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 il risultato è che inizia a espandersi poi esistono meccanismi per stabilizzarla e tutto il resto ma a meno di metterci dei buchi neri o delle cose un pochino strane generalmente questa roba si espande alla velocità della luce inizia a espandersi dicevo una bolla fuori dalla bolla l'energia del campo è quella di qui sopra dentro la bolla è quella di qui sotto ok poi è chiaro chi ha studiato queste cose mi dirà che la bolla non ha mai una energia a zero perché la bolla appare già con un raggio finito perché dipende poi dalle configurazioni che facciamo dipende dal potenziale specifico eccetera deve avere meno energia generalmente il collasso è protetto da questa barriera di potenziale quindi generalmente le bolle sono avvantaggiate da un punto di vista energetico solo oltre un certo raggio però questo è un discorso un pochino complicato noi ci immaginiamo che sta bolla appaia e inizia ad espandersi ok poi bisogna fare i conti esatti per capire dove sia energeticamente favorita appunto calcolare la probabilità di effetto tunnel e che appaia dal nulla una bolla e poi inizia ad espandersi e così via ma il risultato di questa roba qua è che generalmente la fisica dentro la bolla sia diversa dalla fisica fuori vi ho fatto il video sul campo di Higgs prima se questa roba se il campo di Higgs fosse in un vuoto metastabile e sapete che il valore di vuoto del campo di Higgs come vi dicevo determina la massa di certe particelle della materia e dei bosoni mediatori W più o meno Z eccetera eccetera se questa cosa succedesse al campo di Higgs e il campo di Higgs saltasse improvvisamente in una bolla che poi prende ad espandersi a un valore più basso dentro quella bolla i valori delle masse dei bosoni mediatori delle particelle sarebbero diverse dei mosoni degli ex bosoni mediatori dell'interazione elettrodebole che si è rotta l'interazione elettromagnetica interazione e così via sarebbero diversi e questo farebbe saltare tutta la chimica questo farebbe saltare qualunque formazione di struttura salvo aggiustare proprio le cose per far sì che qualcosa resti in piedi generalmente possiamo aspettarci che all'interno della bolla cambino completamente le leggi della chimica perché cambiano le masse delle particelle fondamentali dell'elettrone dei quark quindi dei barioni del protone e così via questo è interessantissimo perché si tratterebbe di una palla di morte di nulla di cenere di distruzione che si espande alla velocità della luce il miglior meccanismo per far piazza pulita di specie aliene fastidiose ed espandendosi alla velocità della luce noto che niente va più veloce della luce alcuna informazione perché siamo comunque in un contesto coerente con la relatività speciale noi sappiamo che nel nostro universo niente può superare la velocità della luce noi sapremmo di una siffatta bolla solo e soltanto nel momento in cui la bolla ci raggiunge alcuni ipotizzano che questa sia una delle ragioni per cui non siamo ancora stati contattati da specie aliene ovvero che nell'universo ci siano tante bolle che si stanno espandendo di morte nulla dove i campi sono saltati a un vuoto più basso e questo ha distrutto qualunque potenziale civiltà però qui entriamo davvero nella fantascienza pura può essere buon materiale da romanzo di fantascienza ma noi ci fermiamo un attimino prima ciò che dico però è che se i campi quantistici vivono in un vuoto metastabile esiste in ogni punto ed in ogni istante una certa densità di probabilità che quelle robe su istante e su punto ovviamente che quelle robe saltino a un vuoto più basso è che inizia ad espandersi una bolla appaia per effetto tunnel inizia ad espandersi dentro la bolla la fisica sia diversa e tutte le strutture tutte quelle robe che stanno dalla chimica in su vengano distrutte magari per poi essere sostituite da qualcos'altro ma con un po' di tempo e il fatto che viaggia alla velocità della luce fa sì che non ci si possa preparare e non ci si possa spaventare non si possa pregare non si possa far testamento prima di essere raggiunti da questa bolla di distruzione totale Max Tegmar Fisico ci ricorda pure che forse sottostimiamo il rischio di essere investiti da sì fatte bolle perché non potendole vedere prima che arrivino ovviamente non possiamo davvero stimare quale possa essere la probabilità che una bolla del genere appaia quindi è molto 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 interessante molto 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 terrificante molto molto prolifico dal punto di vista fantascientifico ci vorrebbe proprio un romanzo di fantascienza che si occupa del tema vi ringrazio crononauti per essere giunti fin qui spaventatevi e quando mettete i vostri figli al letto facito il papa raccontate loro delle bolle di vero vuoto beh falso vuoto quello su bolle di vero vuoto decadimento del falso vuoto a vero vuoto questo è il gergo tecnico parlate loro di queste bolle di morte che si espandono alla velocità della luce e vi ricordo che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa ricordatevi di iscrivervi instagram youtube telegram a presto a presto a presto